Musica Quante volte nella vita vi è stato detto che per non commettere errori occorre mantenere i piedi ben piantati per terra Ebbene, io oggi sono qui per parlarvi invece dell'importanza di vivere con la testa fra le nuvole Buongiorno, mi chiamo Antonia Gambacorta, sono di Bari Da 20 anni vivo negli Stati Uniti dove studio le proprietà dell'atmosfera terrestre e delle sue nuvole come scienziata NASA Si pensa comunemente che noi tutti, in quanto esseri viventi, siamo animali terrestri Errore, vi dirò io Solo i nostri piedi sono piantati per terra Il resto del nostro corpo è completamente immerso nell'atmosfera ed è parte integrante di essa Spesso si associa ad un cielo azzurro, uno stato di pace, di stabilità In italiano usiamo la stessa parola, sereno, per indicare un cielo senza nuvole ed uno stato d'animo tranquillo Errore, vi dirò ancora io Un cielo senza nuvole è un cielo a metà In quanto esseri viventi abbiamo bisogno delle nuvole tanto quanto del sole Comunemente si pensa che il cielo sia sempre lì, uguale, a fare da sottofondo la nostra vita quasi come un accessorio E a pensarci bene, quanti scienziati del passato hanno inviato telescopi verso l'universo E quanti ancora oggi continuano a inviare sonde oltre il nostro cielo, oltre le nostre nuvole Molti crederanno che i misteri del sapere umano siano tutti nell'universo Errore, vi dirò io Conosciamo meglio la superficie del pianeta Marte che il fondo del nostro oceano Quello stesso oceano da cui hanno origine le nuvole più maestose e prorompenti come questa Si chiama Cumulo Nembo E' una nuvola che si forma con potenti correnti ascensionali che possono raggiungere delle velocità di fino a 80 km all'ora Questa nuvola in particolare può raggiungere anche altezze di ben 20 km sul livello del mare Pensate, 20.000 metri di goccioline di acqua sospese sulla vostra testa Questa in particolare si è formata da correnti che hanno avuto origine nel cuore del golfo di Guinea In Africa occidentale Correnti che hanno attraversato l'oceano Atlantico per arrivare alle coste della Florida Dando origine a questa nuvola Essa poi si è aggiunta ad un uragano Ha proseguito verso nord lungo le coste orientali degli Stati Uniti Riattraversato l'oceano Atlantico per poi andare a morire nei mari del nord Europa Quanta storia porta dentro di sé una nuvola Le nuvole vanno, vengono, ogni tanto si fermano Diceva una bellissima canzone di D'André E i nostri figli lo sanno bene perché si spermano sempre A guardare con il laso all'insù la forma fantastica delle nuvole Tanto variegate divertenti eppure così lontane, mutevoli, misteriose Ciò che vediamo delle nuvole è solo luce riflessa dal sole Le nuvole in realtà nascondono una complessità invisibile Una forza energetica ancora poco conosciuta Infatti rappresentano la fonte principale di errore in tutti i modelli meteorologici e climatici Ma come si forma una nuvola e perché? Come tutto in natura è una questione di equilibrio La Terra per mantenersi in equilibrio con il sole ha bisogno essa stessa di emanare calore E lo fa in tante forme diverse Tra cui rilasciando vapore acqueo Il vapore sale in atmosfera Si condensa su corpuscoli sospesi in aria e forma una nuvola E' lo stesso meccanismo con cui lo stesso corpo nostro si raffredda sudando Il sudore si trasforma in vapore Il vapore sale in atmosfera e forma una nuvola Noi formiamo le nuvole Le nuvole poi si ingrossano Il signore della pioggia di Gianni Rodari crea la pioggia La pioggia arriva a terra Va nei fiumi e torna nell'oceano E il ciclo rincomincia Ma non finisce qua Le nuvole come dicevo hanno una forte forza energetica Possono infatti raffreddare la nostra Terra Riflettendo la luce del sole verso l'alto Ma possono anche riscaldarla Agendo da coperta intorno ad essa Sono questi due meccanismi contrapposti e delicatissimi Su cui si basa la sopravvivenza del nostro pianeta Basta infatti una piccola perturbazione Nelle condizioni iniziali di una nuvola Che in pochi minuti può cambiare completamente lo stato delle cose Una nuvola può trasformarsi in vapore e scomparire Può congelarsi in miliardi di cristalli di ghiaccio O precipitare in pioggia Ecco perché anche il più piccolo degli errori Nella misura delle condizioni iniziali di una nuvola Oggi sulla nostra testa Può portare delle previsioni del tempo completamente errate Domani E quelle del nostro clima fra 10, 50, 100 anni Forse avete sentito parlare di un'espressione che dice Il battito delle ali di una farfalla Può causare un tornado in Texas Con una farfalla che vola in Brasile Si chiama effetto farfalla E' stato scoperto nel 1961 Dallo scienziato dell'MIT Edward Lawrence Un giorno Lawrence lavorava ad un modello atmosferico E decise di alleggerire i suoi calcoli Arrotondando una variabile a 0,506 Anziché 0,506127 Avviò il suo modello Decise di fare una pausa a pranzo E quando tornò Trovò un risultato completamente inaspettato Era bastato un errore di un centesimo di millesimo Per ottenere dei risultati Nelle sue previsioni meteorologiche completamente diversi Lawrence si rese conto subito Che in natura Piccoli cambiamenti non necessariamente portano a piccole conseguenze In natura piccoli cambiamenti possono portare a delle conseguenze enormi La scoperta dell'effetto farfalla Ha portato ad una vera rivoluzione scientifica Dando vita a quella che viene chiamata teoria del caos Dai tempi di Galileo e forse anche di Cartesio Si era pensato che tutto in natura fosse prevedibile E che con lo sviluppo scientifico e tecnologico si sarebbe arrivati a conoscere e prevedere tutto l'universo Errore La scoperta di Lawrence ci ha insegnato che nella fisica dell'atmosfera ogni misura Ha un suo errore e quindi una previsione meteorologica certa non esiste A meno che non siano perfettamente note le condizioni iniziali Lawrence conclusa i suoi studi asserendo Che poiché tutte le misure delle condizioni iniziali saranno sempre inevitabilmente affette da errore O incomplete Una previsione meteorologica certa non esiste Sessanta anni dopo tutto rimane uguale con qualche novità All'epoca Lawrence si occupava solamente di previsioni meteorologiche Ma presto le sue conclusioni sarebbero diventate centrali per un problema molto più grande Quale certezza abbiamo sulle previsioni del cambiamento climatico? Il nostro clima ha sempre subito delle fluttuazioni naturali Per via delle complesse interazioni tra cielo, terra e oceano L'effetto farfalla appunto La rivoluzione industriale tuttavia ha interrotto questo equilibrio Provocando un riscaldamento innaturale A partire dalla rivoluzione industriale la temperatura globale della terra è salita di un grado e mezzo I risultati li stiamo già vedendo La domanda che molti scienziati come me si sta ponendo è di quanto crescerà ancora Su questo argomento i nostri modelli sono profondamente divisi e discordanti Presentano una discrepanza di ben 4 gradi centigradi Possono sembrare irrisori 4 gradi ma non lo sono affatto Perché i cambiamenti che stiamo vedendo Stanno causando un intensificarsi di eventi estremi come alluvioni e siccità Stiamo vedendo l'impatto sulla sicurezza economica La salute pubblica La stabilità sociale Entro il 2040 si prevede Che il riscaldamento globale raggiungerà i 2 gradi E questo creerà un'intensificazione di questi eventi estremi Entro il 2050 si prevede che lo scioglimento dei ghiacciai creerà una salita del livello del mare di ben 30 centimetri Mettendo a repentaglio la vita di milioni di abitanti delle zone costiere L'alto commissariato delle Nazioni Unite dei Rifugiati prevede che entro il 2050 ci saranno ben 1 miliardo e 200 milioni di rifugiati climatici Le vittime dimenticate del cambiamento climatico Il motivo di questa discordanza nei nostri modelli? L'errore nelle misure dei processi delle nuvole e della loro evoluzione Ma come si misura una nuvola? Ci sono tanti modi diversi Se state pensando ad un microscopio volante No, non proprio così Le prime misure sono state fatte con delle fotografie a bordo di aeroplani Queste ci hanno rivelato le caratteristiche più incredibili Sulla forma dei cristalli di ghiaccio di una nuvola, per esempio Rosette, cilindri e sagoni Tutto ciò nella dimensione di un centesimo di millimetro Ebbene, vi ricordate l'errore millessimale di Lorenz? Per una nuvola come quella che vi ho fatto vedere prima Ci sono circa 100 milioni di goccioline di acqua in un metro cubo Che moltiplicato per 20 chilometri di altezza e 10 chilometri di diametro Fanno 40 miliardi di miliardi di goccioline 40 miliardi di miliardi di errori in una sola nuvola E però di una nuvola non abbiamo solo bisogno della dimensione delle goccioline Di una nuvola abbiamo bisogno di sapere la sua temperatura Il vapore acqua che la circonda L'altezza Di una nuvola abbiamo bisogno di sapere tutto Le misure dell'atmosfera intorno alle nuvole si fanno in tanti modi diversi Le più semplici sono con delle radiosonde Ma ci sono anche dei metodi più sofisticati Io non dimenticherò mai la prima volta che ho studiato la proprietà delle nuvole nel cielo di Napoli Presso l'Università Federico II Lo facevamo con un laggio laser che veniva inviato verso le nuvole e poi raccolto da un telescopio Studiando il cielo di Napoli ho scoperto la fragilità dell'aria che respiriamo Ed era il 2001 Io ero arrivata a Napoli con uno scopo ben preciso Migliorare la conoscenza della fisica dell'atmosfera Per ridurre l'errore nelle previsioni del cambiamento climatico E poi L'America Ad una proposta di un dottorato alla NASA non si può dire di no Eppure Quanta incertezza e quanta paura di commettere un errore in questa scelta Alla fine tutta la nostra vita è un effetto farfalla Eppure Anche se la cosa certa Non la si conosce La cosa giusta da fare La si sente dentro E forse quella è l'unica certezza che abbiamo Seguire la nostra verità Dopo 20 anni Molte cose sono cambiate Abbiamo migliorato i modelli Abbiamo lanciato altri satelliti Abbiamo persino costruito dei modelli di intelligenza artificiale Eppure un modello funziona se prima funzionano le misure Ed è qui che mi trovo adesso Oggi dirigo un progetto che coinvolge 30 scienziati e ingegneri della NASA Alla Goddard Space Flight Center Stiamo costruendo quello che sarà il primo sensore satellitare ultraspettrale a microonde Potrei non darvi di particolari ma non lo farò Vi dirò solo che per risolvere anche il più piccolo degli errori Occorre uno strumento grande Un team eccezionale di scienziati Una famiglia e degli amici meravigliosi che credono in te Questo strumento si chiamerà Atmospheric Ultra Resolution Optical Radiometer Aurora Non poteva non avere un nome italiano Grazie a migliaia di nuovi canali ad altissima risoluzione Ci permetterà di misurare quella radiazione invisibile Dell'atmosfera che attraversa le nuvole e arriva al nostro sensore Queste misure ci permetteranno di ottenere un quadro più completo Su come sta cambiando la temperatura, il vapore acqueo e il ciclo delle nuvole Tutta la vita che noi conosciamo nell'universo È racchiusa in questo strato sottile di appena 20 km di atmosfera Che circonda il pianeta Terra Questo angolo di universo in cui viviamo noi Ed è nostro il compito di tutelarlo Il whisky è da bere, per l'acqua si litiga Diceva lo scrittore Mark Twain Da questo punto di vista risolvere l'errore di una nuvola Ha un fortissimo significato di pace Grazie 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 a tutti